La danza è movimento ed espressione del corpo. Non importa cosa balli o nemmeno come balli, se ti rende felice balla e basta. Per me la danza non è un esercizio, è uno stato dell'anima che esce attraverso il movimento. Danzare è come parlare in silenzio e dire molte cose senza dire una parola. Per me la danza è uno scopo, dove ogni emozione corrisponde ad un movimento, è un'arte sottile che libera la mente. Imparare a danzare ti dà la libertà più grande di tutte, esprimere con tutto il tuo essere la persona che sei. Non è solo un passo al ritmo di musica, è passione. La danza è l'espressione dell'anima. Ci sono scorciatoie per la felicità e la danza è una di queste. Per me la danza è esprimere i sentimenti attraverso il movimento del corpo umano. La danza è un sogno da vivere fino all'ultimo passo. La danza per me è un momento in cui mi posso sfogare ballando. Per me la danza è tutto, è la mia vita, è il mondo che gira attorno a me. Per me la danza è scappare un po' dalla realtà e far finta di stare in un mondo magico. La danza è l'impegno che ci si mette per raggiungere i propri sogni. Per me la danza è una passione che viene dal cuore. La danza è una poesia che ogni parola è un movimento. Cos'è la danza? La danza è il volteggiare in aria senza pensieri. È il volere di alzare le punte in ogni movimento. È il sudore che scende sulla pelle e soprattutto l'orgoglio, il sorriso e la soddisfazione di riuscire in un sogno. Per me è un momento di gioia, un momento che mi fa stare bene. Un momento di amore perché è il primo giorno che ti metterai le tue prime scarpette. È il tuo primo dudù, il tuo mondo diventerà rosa. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti.